La movida degenera, così sindaci e cittadini si rivolgono al prefetto per mettere un freno a comportamenti molesti e fuori legge. Il tema è stato affrontato nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Secondo le segnalazioni con la riapertura degli esercizi pubblici, molti giovani che nel fine settimana affollano strade, piazze e locali e mentre la maggior parte si comporta correttamente, è accaduto che alcuni gruppetti creassero assembramenti o adottassero comportamenti alterati dal consumo di sostanze alcoliche, disturbando la quiete pubblica. Per contrastare queste condotte inopportune, i sindaci potranno assumere autonome determinazioni e pianificare servizi ad hoc di vigilanza da parte delle polizie locali, chiedendo in caso di necessità il supporto delle forze dell'ordine. Nel corso del comitato è stato affrontato anche il tema incendi sul nostro territorio. La situazione è sotto controllo. Dal 1 gennaio ad oggi 10 roghi rilevati, di cui 7 di limitatissime dimensioni a livello regionale. Gli incendi registrati sono stati 100.